Sesso in spiaggia a Cannatello e i video sono virali, Gaetano Ravanà. Ricordate quella famosa pubblicità che recitava Antò fa caldo? La donna rifiutava le avanze del marito per le alte temperature. Ebbene, ieri, domenica agostana, la prima domenica di agosto, le temperature erano giù per via del forte vento atlantico che ha rinfrescato un tantino l'estate agrigentina. Evidentemente il mare agitato ha tenuto lontano le famiglie e pertanto due mandi si sono lasciati trasportare dalla passione quando si sono visti soli soletti nella spiaggia di Cannatello ed Agrigento. Con l'area più fresca, i due hanno ceduto facendo sesso in spiaggia. Non avevano però fatto i conti con un gruppo di ragazzini che armati di telefoni cellulari hanno ripreso per intero l'amplesso e lo hanno pubblicato in rete. In pochi minuti il video è diventato virale, spettando che c'è qualcuno che ha già riconosciute due. I filmati a dire il vero che girano in rete sono almeno tre a dimostrazione del fatto che non è stata una scena breve. I video hanno fatto il giro degli smartphone in pochi minuti generando commenti non solo divertiti ma anche di indignazione. In tanti segnalano la totale assenza di controlli nella frazione balneare che ricade proprio nel territorio dell'agrigento nonostante sia per tradizione frequentata da favaresi. E comunque non è la prima volta che accadono fatti del genere. Già lo scorso anno qualcuno aveva denunciato la presenza di una coppietta vicino al porticciolo turistico di San Leone che si era lasciata andare ad un amplesso anche abbastanza focoso.